Ben trovati cari amici Globus Television, Antonella Guglielmino. Ecco le notizie di Globus, iniziamo subito con la prima. Forte di una tradizione che lo rende il più antico riconoscimento istituito in Italia in onore di un musicista, il premio Bellini d'Oro, organizzato dalla società catanese Amici della Musica. Raggiunge quest'anno il traguardo della trentesima edizione e in corona Lucia Aliberti, artista di fama internazionale, nell'occasione della grande festa che celebrerà i suoi 40 anni di carriera. Il premio istituito dal 1968 viene assegnato a personalità di spicco della scena lirica, è diventato momento di osservazione privilegiato sulla lezione sull'esegesi belliniana, declinata sul palcoscenico di tutto il mondo. Cambiamo argomento, l'amministrazione dell'ente autonomo regionale Teatro di Messina ha riunito lunedì 3 luglio le sigle sindacali all'incontro convocato dal sovrintendente del Teatro di Messina, Gidio Bernava. Erano presenti le rappresentanze delle sigle sindacali CGL, CISL, UGL, SIAD, SADIRS, COBAS e CODIR. E' intervenuto in apertura anche il neopresidente Luciano Fiorino che ha tenuto a portare il proprio saluto. Dicendo così, tra le tre principali direttrici di questo nuovo corso ho voluto mettere in evidenza già nel giorno del mio insediamento la valorizzazione delle risorse interne e satellitari del teatro. E incontrarvi oggi mi ha dato l'opportunità di confrontarmi e condividere con voi l'avvio di un percorso che possa vederci uniti nella rivendicazione dei diritti dei lavoratori che rappresentano un motore culturale per il nostro territorio. Andiamo a Catania. L'Università di Catania e l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro collaboreranno per attivare un percorso universitario che consentirà di ottimizzare i tempi per l'accesso all'esercizio della professione. Attraverso lo svolgimento di una parte del tirocinio previsto per l'accesso alla professione. I primi sei mesi in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio. E' quanto prevede la convenzione quinquennale sottoscritta nei giorni scorsi riguardando in particolare i corsi di studio attivati dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. E' approvata dagli organi di governo dell'Ateneo che è stata presentata venerdì dal Rettore Francesco Basile e dal Presidente del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Catania Giovanni Greco alla presenza del Direttore del Dipartimento Giuseppe Barone ed è il Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni Giuseppe Vecchio. Parliamo di cinema. Tra luglio e agosto il cinema Sotto il Vulcano godrà di una magica brezza sospinta nelle immagini dei cortometraggi provenienti da ogni parte del mondo. Infatti a partire dal 20 luglio si inaugura la Sicily International Short League nata nell'ambito della programmazione annuale della Via dei Corti Festival Internazionale di Cinema Breve. Un vero e proprio torneo internazionale sotto le stelle con cortometraggi provenienti da ben 10 nazioni diverse Italia, Francia, Spagna, Germania, Messico, Iran, Serbia, Olanda, Russia, Grecia. La prima edizione della Sicily International Short League organizzata dall'associazione No underscore Name in cooperazione con l'associazione Gravina Arte con il patrocinio del Comune di Gravina di Catania e dall'Università degli Studi di Catania si terrà presso la terrazza della Sala delle Arti di Gravina di Catania e si svilupperà nell'arco di quattro serate di proiezioni tra i semifinali il 20 luglio e il 27 luglio e il 3 agosto in cui verranno proiettati 24 cortometraggi internazionali selezionati e una finale il 10 agosto in cui le 6 migliori opere si contenderanno il premio del pubblico al miglior film, Audience Howard Best Film e soprattutto l'accesso diretto alla selezione finale della terza edizione dei Via dei Corti. Ultima notizia, è stato siglato l'accordo tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l'Agenzia Spaziale Italiana per l'invio in orbita di innovativi rivelatori in grado di visurare la polarizzazione della radiazione X delle sorgenti celesti, una proprietà che finora è stata osservata solo dalla brillante nebulosa del Granchio del 1972 per la mancanza di strumentazioni sufficientemente sensibili ma che è attesa in moltissime sorgenti ed è fondamentale per capire per esempio la geometria e il campo magnetico di buchi neri e stelle di neutroni. I nuovi rivelatori sono tre gas pixel detectors che progettati e costruiti dai laboratori dell'INFN di Pisa saranno gli occhi del telescopio XPE, la prossima missione NASA del programma Small Mission Explorers il cui lancio è previsto per la fine del 2020. L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l'ASI hanno perfezionato per più di 10 anni i GBT per applicazioni che riguardano la misura della polarizzazione in vista di un loro impiego su satelliti dedicati in cui speciali specchi focalizzano la radiazione X emesse dalle sorgenti. Grazie, la nostra ultima notizia, alla prossima edizione. Grazie a tutti.